Soprattutto meditate gente, meditate che c'è sempre qualcuno che ci porta all'ingrasso e non te ne crei che vedrai a pensare al nostro futuro, eh? Sei pro Massimo? Pronti? Soprattutto meditate gente, meditate che c'è sempre lì e dopo che indescava all'alloggiata andacca a far maiare come i fumi, con che la dieta al C, al vero rostrope di lena Adesso mi caminava la pena, io credo che mi stessa e io sento a cres l'amor per lo che pensa so bene e patrò Io me levo, o me padrò, per me riscola, a se fai in gru a se mai veste, c'è la bontà, a me riscola, io di grigia Adesso mi tratta come papà, dentro l'ingora, me escapa sui grasso, sui forse Adesso mi dici che ti è in gru si deve piogare Adesso mi dici che ti è in gru si deve piogare Adesso mi dici che ti è in gru si deve piogare Adesso mi dici che ti è in gru si deve piogare Adesso mi dici che ti è in gru si deve piogare E siamo alla terza scrofa Allora ma il bel padrone a carca se sarà aperto e non forse la pensa con rispetto siccome sto fatica a me più già a me ormai porto in motocara a valcire la corsa alla benessa di capa lungo scritto ma c'è naturalmente lei che faccio la pelle ho sopra propria tarte a tavola colla a mis al canta in tata le caso di barbis come le buvo o me subì e passava e con le guì a se mai vese tanta bontà per una fortuna a las cristià ho chunile morpo ai per pronte senza capire perché bastano molte facce ma veramente l'avevano avvertito perché un giorno ho chiesto a lascino che maniera te padrone ti fa sgobate picca col bastu e il tè da po' di maian mi fonego tutto il dir mi tratta sempre bene e l'asenalga replicato e però queste mie chiedere hanno passato e invece lì sono moche l'asen ed è che sconto il naso che si fa l'amore per la prima volta e poi mi fai una nuova grattis che si è troppa tua 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 tua